Allora, facciamo un momento locale e ricordiamo un attimo dove eravamo arrivati, in modo da seguire il ragionamento. Stiamo guardando un convertitore di CDC di tipo BAC, cioè step down, con induttore. E avevamo all'inizio analizzato la modalità di conduzione continua, che è relativamente facile. Ricordate il rapporto tra la tensione continua fornita in uscita e la tensione di ingresso non regolata era uguale al duty cycle dell'interruttore. Quindi in quel modo noi possiamo regolare la tensione in uscita controllando il duty cycle. Questa parte è facile. Per corrente media che cala, invece, si raggiunge una situazione in cui la conduzione diventa discontinua, perché nel tratto discendente della corrente in funzione del tempo, a un certo punto la corrente incontra l'asse delle ascisse, quindi la corrente tenderebbe a cambiare disegno e questo è impedito dall'interruttore, scusate, è impedito dal diodo. Quindi a quel punto la corrente si azzera. Allora, non abbiamo più un'onda triangolare nell'andamento della corrente in funzione del tempo, ma abbiamo un'onda che ha un periodo fatto con una spezzata a tre tratti. Abbiamo un tratto lineare ascendente, il tratto lineare discendente e un tratto nullo. Qui, quindi, chiaramente bisogna modificare un po' l'analisi. Abbiamo chiamato D la porzione di tratto ascendente, delta 1 la porzione di tratto discendente e delta 2 la porzione di tratto nullo. Allora, a questo punto, nell'analisi, le cose si complicano un pochino e dobbiamo distinguere due situazioni diverse. Quella in cui Vd sia costante e in realtà quello che ci interessa è modificare, variare la tensione d'uscita, la Vout. Questa è una situazione che vi avevo anticipato, poi lo vedremo un po' in dettaglio nelle prossime lezioni quando affronteremo i motori. Viene utilizzato tipicamente per il controllo di un motore elettrico in continua. Il controllo di un motore elettrico in continua si fa attraverso la tensione applicata all'avvolgimento di statore del motore. Quindi la tensione di alimentazione del motore viene modificata in modo da modificare la potenza meccanica erogata dal motore. E questa è la situazione che noi l'abbiamo analizzata l'altra volta, lunedì scorso, abbiamo visto come si comportano le curve quando la corrente è inferiore al livello minimo che garantisca la conduzione continua. Niente di particolare, l'equazione è piuttosto semplice, viene fuori un comportamento biquadratico, poi in realtà l'equazione era di quel tipo là. Abbiamo poi analizzato l'altra situazione, quella in cui noi vogliamo alimentare con VO costante. Quella è la situazione tipica in cui abbiamo bisogno di alimentare un circuito elettronico. Il circuito elettronico si alimenta con VO costante, anche quando il circuito elettronico non consuma, può essere per esempio un risce trasmettitore nel momento in cui è spento, oppure un microprocessore quando vengono fatte poche operazioni. L'assorbimento di corrente cala, la tensione deve rimanere la stessa e quello che succede è che il convertitore passa dalla modalità di conduzione continua a una modalità di conduzione discontinua. A questo punto però a VO costante, non a V di costante, si tratta di vedere come viene fatta la regolazione in quel caso. E questi sono gli ultimi passaggi a cui eravamo arrivati l'altra volta. Abbiamo visto per correnti minori della corrente minima, quella ILB, che è la corrente minima che garantisce la conduzione continua, abbiamo trovato questa relazione che nell'ultima riga, tra la D, cioè il rapporto tra il tratto ascendente e il duty cycle, è sempre il duty cycle del switch, quindi che corrisponde al rapporto tra il tratto ascendente e il periodo completo, e il rapporto Vd su Vo. A questo punto noi possiamo esplicitarlo, possiamo esplicitare D da questa relazione, troviamo il duty cycle per una certa corrente d'uscita, per io, per una certa tensione d'uscita e per una determinata tensione non regolata d'ingresso Vd. Sulla base di questo noi possiamo rappresentare il grafico successivo, vediamo se lo leggiamo insieme, che mi dà D, quindi il duty cycle, in funzione della corrente. Allora, come si legge? Dunque c'è questa retta che separa la conduzione continua dalla conduzione discontinua, che cosa è determinata questa retta? Beh, se tornate un attimo indietro, abbiamo trovato questa relazione qui nella prima riga, IlB era uguale a un certo valore massimo, che è Vo per Ts fratto 2L per 1 meno D, quindi noi possiamo, se scriviamo D in funzione di LB, viene fuori una retta, viene fuori D uguale a 1, meno Il su IlB max, giusto? E che è esattamente la retta tratteggiata. Quindi questo è, aspettatelo al noto, così ce lo ricordiamo, e beh, questa qui in pratica, no? Questa retta è la retta che separa la conduzione continua dalla conduzione discontinua. Questo IlB max per noi è semplicemente una normalizzazione, un valore massimo della corrente limite, ma insomma per noi è una normalizzazione in questo caso. Allora, per valori superiori vale ovviamente la relazione che abbiamo visto prima, Vo su Vd uguale a D. Quindi adesso facciamo il ragionamento a Vo costante e quindi in funzione, per Vo costante, chiaramente questa retta ci dice qual è il Vd che corrisponde a un certo D impostato. Quindi in funzione della tensione non regolata Vd, rispetto alla tensione che vogliamo, noi andiamo a leggere qual è il duty circle che dobbiamo imporre. Va bene? Così si legge il grafico. Questo vale sopra questa retta, è la solita caratteristica indipendente dalla corrente che abbiamo trovato per un convertitore in modalità di conduzione continua. Sotto invece abbiamo un andamento che è quello che abbiamo trovato all'ultima riga della slide precedente, cioè in modalità discontinua, quindi questa era continua, in modalità discontinua abbiamo trovato questa relazione. Quindi chiaramente diventa una famiglia di curve parametrizzata in Vd su Vo che compare qua e quindi, vedete, è una cosa che ha un andamento di questo tipo. D è proporzionale alla radice della corrente e quindi questo è un andamento classico di radice. La costante di proporzionalità dipende dal rapporto tra tensione d'uscita e tensione non regolata. Quindi questo più o meno è radice della corrente. Quindi un termine come io alla un mezzo e poi un termine indipendente da io. Ecco, diciamo, questo è interessante dal punto di vista dell'analisi, ci dà anche un modo di valutare qual è il consumo di corrente, come dire, il consumo di corrente del convertitore, cioè la parte di potenza che viene consumata, viene dissipata dai switch. È chiaro che nel meccanismo di controllo, in realtà, non dobbiamo inserire nessuna conoscenza a priori di questa curva, perché di fatto avremo un sistema in reazione per cui il duty cycle si aggiusta sulla base del valore della tensione d'uscita. avremo, come al solito, in un convertitore di C-D-C, un confronto tra il valore della tensione d'uscita e il valore della tensione impostata, a seconda del segno di questo confronto, nel convertitore si incrementerà o si ridurrà il duty cycle, con una legge che in realtà anche questo vedremo tra 4-5 ore di direzione. però ecco, non c'è bisogno di far conoscere al microcontrollore che controlla il convertitore esattamente questa legge. È importante dal punto di vista della progettazione del convertitore. Ok, va bene. Questo è quello che ci interessa per la modalità di conduzione. c'è un altro aspetto importante che è l'oscillazione della tensione d'uscita. Questo è rilevante perché dovete pensare che la tensione sull'induttanza varia in questo modo. Questo è il periodo D. Ora, per semplicità, consideriamo la conduzione continua, tanto ragionamento piuttosto generale. Questo è il periodo D per TS, va bene. Sull'induttanza è applicata la tensione VD-VO e poi nel periodo in cui il switch è off, vi ricordate, la tensione applicata sull'induttanza è meno la tensione d'uscita. Allora, la corrente ha questo andamento rispetto al valore medio. Allora, guardando questo andamento, noi possiamo valutare qual è il ripple della tensione d'uscita. perché, guardate, rispetto alla media, questa carica, l'area che è tratteggiata qua è una carica, ovviamente, è la carica che viene messa sul condensatore d'uscita durante un metà periodo e quest'altra parte che è simmetrica alla carica che viene tolta dal condensatore d'uscita. Va bene? Quindi, se il carico assorbe una corrente costante, questa carica in più va a finire sulla capacità d'uscita e poi viene tolta dalla capacità d'uscita. Quindi carica e scarica una capacità e causa un ripple sulla tensione d'uscita. Va bene? Quindi si può calcolare facilmente quant'è l'entità del ripple perché dipenderà ovviamente dalla carica e dalla capacità d'uscita. La carica, si calcola facilmente, è un triangolo che ha base, un semiperiodo, quindi TS mezzi, ha altezza, la metà dell'altezza della rampa in salita o della rampa in discesa della corrente che abbiamo già calcolato prima e poi chiaramente diviso 2 per l'area del triangolo. D'accordo? Una volta che ho trovato questo delta Q, mi ricordo quanto vale delta I L, ricordate era VO su L, che è, lo prendo sulla parte in discesa, quindi è più semplice, VO su L è la pendenza della corrente nel tratto negativo perché è applicata meno VO all'induttanza, per la durata del tratto negativo, questo qui che è 1-D per TS, mi dà delta I L. Quindi a questo punto questo l'ho trovato, lo prendo, lo sostituisco nell'equazione sopra. Va bene? Vedete, mi verrà un delta Q che dipende ovviamente dall'induttanza, dal duty cycle, dal periodo e dalla tensione. Sostituisco, passaggio è facile, praticamente cosa ho fatto? Ho preso delta I L, l'ho portato qua dentro e poi dico, il voltage ripple sarà delta Q diviso la capacità su cui questa delta Q cade. D'accordo? D'accordo? Io, giusto per ricordarvi, dove voi avete il switch che è messo così, no? Eh no, aspettate, ho sbagliato la posizione. Il switch è messo di sopra. voi avete un switch che è messo così, qui c'è il diodo, qui c'è una capacità C e questo è il carico, d'accordo? Era questo il disegno, giusto? Questa capacità C e questa qua. D'accordo? Quindi la corrente, I L scorre così, la componente media va nella resistenza, la parte variabile, assumo che venga, diciamo, se al primo ordine questa tensione è fissa, questa va a caricare la capacità e poi la scarica e quindi valuto su questa componente delta Q il ripple sulla capacità. Va bene? Quindi, ripeto, al primo ordine è trascurabile, quindi posso assumere che la corrente in RL sia costante e valuto soltanto il tempo di ripple. Allora, questa è una cosa abbastanza interessante come espressione. Vedete, dipende da TS al quadrato e questo vuol dire che in realtà se riesco a aumentare la frequenza di switching il ripple si riduce. E poi, chiaramente, dipende da la frequenza di taglio del filtro. la frequenza di taglia del filtro LC vi ricordo è 1 su 2π greco radice di LC. Quindi, possiamo annotare queste cose e sostituire queste espressioni. Vedete, in pratica qua ho fatto la stessa cosa. Ho diviso per Vo, quindi ho visto questo è il ripple relativo, va bene? E qua, semplicemente, cosa ho fatto? Al posto di TS ho sostituito 1 su FS che è la frequenza di switching e al posto di LC ho sostituito la frequenza di taglio del filtro. Va bene? Quindi viene un FC quadro fratto FS quadro e poi questo, beh, sul resto ci posso far poco anche perché il duty cycle dipenderà dalla regolazione che devo fare con parametro che non controllo. Quindi diciamo che questa roba qua è una cosa che ha ordine 1-2, non valia tanto di più di 1-2 e il resto invece è una quantità che è molto minore di 1 ed è tanto più minore di 1 quanto più alta è la frequenza di switching rispetto alla frequenza di taglio del filtro. Però ecco, possiamo valutarlo quantitativamente. D'accordo? In generale una cosa che è un criterio che vale in linea di massima è che c'è un aspetto delle prestazioni del convertitore switching che migliora sempre quando aumento la frequenza di switching. Praticamente quasi tutto migliora all'aumentare la frequenza di switching. il ripple migliora la velocità del controllo migliora così tutto tranne una cosa che è la potenza che devo spendere per accendere e spegnere l'interruttore che tipicamente aumenta proporzionalmente alla frequenza di switching. Quindi ho questo compromesso per cui in pratica cosa si cerca di fare? Si porta sulla frequenza di switching fin quanto si può e ci si ferma soltanto quando il limite che si impone sulla scelta del dispositivo per fare switching oppure il consumo per fare la commutazione diventa eccessivo. Quindi quello è il limite a certo punto. Perché quasi tutti a parte questo tutti gli altri fattori spingono verso la frequenza molto elevata e quello che è successo negli ultimi anni è che in realtà ci si è spostati sempre più verso frequenze più elevate la tendenza l'uso di MOSFET ha consentito di tirar su molto le frequenze e diciamo una tendenza nel tempo si vede aumentare. Va bene allora con questo abbiamo concluso il buck vediamo l'altro convettore il cosiddetto boost cioè il convertitore in salita il convertitore in salita è che esso è frequente soprattutto per le alimentazioni beh ora c'è per esempio un settore che molto di nicchia in in forte crescita che fa largo uso dei convertitori boost ultimamente che è quello dei sensori indossabili sensori radio che fanno come si dice energy scavenging cioè che estraggono l'energia dall'ambiente tipicamente hanno una cella solare oppure un dispositivo termoelettrico per estrarre energia dall'ambiente tipicamente riescono a ottenere basse tensioni inferiori al volt e c'è bisogno di salire per ottenere l'alimentazione per esempio sono usciti negli ultimi anni tantissimi prodotti di convertitore boost integrati che erogano che erogano diciamo qualcosa inferiore al millivatt dell'ordine al millivatt medio giusto per questi dispositivi comunque è un settore che è un tipo di convertitore soprattutto adoperato per le alimentazioni quando c'è bisogno di tensioni di alimentazioni più elevate di quelle che si ottengono dalla batteria per dire allora il principio di funzionamento lo conoscete già lo riguardiamo un attimo la tensione di uscita è più grande il modulo della tensione d'ingresso ma ha lo stesso segno il principio di funzionamento vediamo il circuito come è fatto sono le stesse componenti di prima diciamo la differenza principale è che l'induttore è a monte dell'interruttore che questo è quello che cambia le cose come funziona quando chiudiamo il quando chiudiamo il switch quando chiudiamo l'interruttore l'induttanza si carica cioè accumula energia attraverso la Vd immaginate cioè una Vd costante applicata quindi la corrente nell'induttanza sale linearmente l'induttanza accumula energia nel campo magnetico e poi quando l'interruttore si apre si vede bene l'induttore tende a conservare la corrente e quindi causa una sovrattenzione sul nodo dell'interruttore che fa condurre il diodo e carica Vo a una tensione maggiore di Vd perché Vo si carica a quel punto alla tensione pari a Vd più la sovrattenzione che abbiamo ai capi dell'induttanza capi dell'induttanza c'è una sovrattenzione perché l'apertura dell'interruttore tende a far calare la corrente e quindi l'induttanza si oppone a calo di corrente aumentando vedete se di L su Dt è negativo la Vl diventa negativa nell'induttanza e quindi il nodo dove c'è il dio dell'interruttore ha una tensione più alta rispetto a Vd d'accordo? quindi dal punto di vista energetico che sta succedendo nel momento in cui l'interruttore è chiuso l'induttanza accumula energia dalla tensione di alimentazione quando l'interruttore si apre l'induttanza e la tensione di alimentazione cedono energia al carico e alla capacità in questo modo avviene trasferimento di energia anche in questo caso se facciamo lo studio del funzionamento è simile a quello dobbiamo fare la cosa che abbiamo fatto prima dobbiamo guardare l'andamento della corrente ricordare che l'andamento della corrente è periodico quindi imporre vincoli e trovare il rapporto tra le cose vediamo insieme qui c'è scritto quello che abbiamo visto allora vediamo un po' la situazione facciamo i conti adesso durante questa è la tensione sull'induttore VL va bene allora durante il periodo durante il semiperiodo durante il quale l'interruttore è chiuso TON abbiamo che la tensione sull'induttore è VD quindi questa è la configurazione con l'interruttore chiuso quindi l'interruttore è chiuso e il diodo a quel punto ha una tensione 0 sull'anodo il catodo immaginate già di conoscere la situazione in regime attenzione positiva quindi il diodo è spento quindi il diodo è off qui siamo in questa situazione la corrente aumenta con pendenza VD su L quindi questa pendenza qui è VD su L durante il periodo durante la semionda negativa quando l'interruttore è aperto allora cosa succede l'interruttore è aperto l'induttore continua a spingere il corrente come dicevo prima il diodo conduce perché la tensione sul nodo dell'anodo si trova a essere a questo punto aumentata fin tanto che il diodo conduce quindi qui il diodo sta conducendo che tensione è applicata all'induttore è applicata una tensione che è VD meno VO ok e VD meno VO beh questo per il momento ve lo dico io ma insomma è una tensione negativa perché VO poi mantiene la tensione più alta di VD che ha raggiunto d'accordo quindi questa è la tensione applicata chiaramente con la tensione applicata negativa la corrente nell'induttore scende quindi la pendenza in questo caso è VD meno VO fratto L essendo VO maggiore di VD questa pendenza è negativa allora qua posso imporre le condizioni periodiche posso dire la la quantità di cui la corrente sale nella semionda positiva è VD su L per TON la quantità di cui la corrente varia nella semionda negativa è VD meno VO su L per TOFF e la somma delle due deve essere zero al regime va bene? impongo questa cosa chiaramente L L si semplifica TON più TOFF vedete che moltiplicano tutte e due per VD TON più TOFF fa TS cioè il periodo di switching e quindi ottengo velocemente l'espressione che lega la tensione di uscita al duty cycle vedete in questo caso che cosa faccio TON più TOFF fa TS ho levato L giusto? tanto non mi serve TON più TOFF fa TS e questo è il primo pezzo se TON è D per TS TOFF sarà 1-D per TS e quindi questo posto di TOFF qui sostituisco 1-D per TS vedete a questo punto anche TS va via con TS e trovo la relazione che c'è tra il duty cycle e il rapporto tra VO e VD ok? questa è l'espressione si vede bene che almeno in principio posso raggiungere tensioni di uscita alte quanto voglio chiaramente D è limitato tra 0 e 1 quindi la tensione uscita è per forza positiva quindi il segno non cambia ed è maggiore sempre di VD nella pratica si esce ad alzare anche di molto prego si è sbagliato nell'equazione sopra quella che ci sono da lei crederebbe TS VD meno TS 1-D può darsi può darsi e c'è il meno sì c'è il meno qua dopo torna no? per tanto quando sì sì certo c'è il meno allora volevo dire nella pratica l'aumento che si riesce a ottenere con uno step up di questo tipo insomma può essere una cosa il fattore 10-20 poche decine si riesce ad arrivare non si riescono a fare cose più elevate perché poi nella pratica ci sono delle perdite nell'induttore soprattutto e anche nella capacità che limitano il valore massimo ottenibile ok? 10-20 si vede di più è molto difficile il rapporto tra le correnti di ingresso e di uscita si può valutare se si fa invece di fare tutto il conto se si fa una valutazione molto semplice della potenza supponendo che la potenza di ingresso debba essere uguale a quella di uscita perché tutti gli altri dispositivi sono ideali cioè non dissipano potenza attiva abbiamo quindi che VO per IO è uguale a Vd per Id quindi cosa vuol dire le correnti stanno in rapporto inverso a quello delle tensioni d'accordo? chiaramente nella pratica un pochino di dissipazione c'è direi prima battuta nel diodo poi nell'induttore poi nella capacità chiaramente poi bisogna vedere le quantità reali ma insomma questa è la situazione più pratica allora dunque anche in questo caso guardate l'andamento della corrente se la corrente media assorbita dal carico cala si può arrivare in modalità discontinua d'accordo? quindi come al solito vediamo quant'è la modalità discontinua dobbiamo vedere qual è il limite per la corrente di uscita che fa toccare quest'onda triangolare fa sì che l'onda triangolare tocchi l'asse delle ascisse cioè tocchi corrente nulla va bene? quindi l'analisi è esattamente uguale a quella che abbiamo fatto prima e guardiamola insieme siamo piano piano all'andamento come dobbiamo fare al solito ve lo mostro da qui dobbiamo abbiamo valutato quant'è la variazione di corrente di picco quindi tra il massimo e il minimo quando il valore medio diventa metà del picco siamo al limite d'accordo? e quindi così impostiamo il la prima quantità quindi la variazione picco picco della corrente prendendola sulla semionda in cui il diodo in cui l'interruttore conduce è vd su l per t on quando la corrente nel carico vale alla metà di questo siamo al limite quindi facile a questo punto fare conto al posto di vd metto vo per 1 meno d al posto di t on ho ts per d e quindi la sostituzione l'ho fatta quindi posso calcolare il limite in funzione del duty cycle e della tensione di uscita qui lo facciamo rispetto alla tensione di uscita beh prima anche il caso più comune effettivamente è quello di power supply dove la tensione di uscita il cioè la specifica di sistema d'accordo allora detto questo passaggio successivo valutiamo quanto vale la ilb questa è ilb in funzione di d vedete questa cosa qua è una parabola c'è un termine d per 1 meno d che ha un andamento parabolico che ha il massimo quando d vale un mezzo quando d vale un mezzo d per 1 meno d vale un 4 quindi questo è il massimo e e quindi possiamo scrivere ilb come ilb uguale a ilb massima per 4 d 1 meno d perché scritta in questo modo questa quantità ha massimo 1 e quindi si vede che ilb è uguale a questo ilb massimo d'accordo quindi se mettete un 4 qua viene esattamente vo per ts fratto 8l ok questa qui è la corrente nell'induttanza che non corrisponde in questo caso la corrente media dell'induttanza non corrisponde in questo caso alla corrente nel carico nel commento del Bach la corrente media dell'induttanza era anche la corrente nel carico perché la corrente media nella capacità era nulla no? in questo caso non è così che differenza c'è tra le due aspettate forse bisogna tornare indietro per farvelo vedere vedete in pratica la corrente dunque la corrente nell'induttanza avrà una media nella semionda positiva e la media nella semionda negativa la corrente nella semionda positiva si richiude tutta e quindi non passa solo la corrente media nell'induttanza nella semionda negativa passa nel carico quindi per calcolare la corrente media nel carico dobbiamo prendere la corrente media nell'induttanza e moltiplicarla per il complemento del duty cycle cioè per la frazione di periodo durante il quale l'interruttore è aperto ok? ripeto la corrente media nell'induttanza non è uguale alla corrente media nel carico è soltanto la corrente media nell'induttanza nella semionda negativa che è uguale alla corrente media nel carico ok? allora per questo motivo qui questa è la corrente media nel carico la otteniamo prendendo la corrente media nell'induttanza e moltiplicandola per 1-D quindi viene sostituendo all'espressione di sopra viene un pezzo 1-D al quadrato come vedete e in pratica ho un'espressione cubica della IOB questa è IOB in funzione di D se vado a fare il conto non mi importa più di tanto ma insomma chiaramente è asimmetrica e il massimo si ottiene per D uguale a un terzo facendo la derivata si vede facilmente insomma adesso non mi importa è importante riuscire a ricavarlo però poi abbiamo questo andamento allora qual è la situazione? per correnti sopra quella curva siamo in modalità di conduzione continua correnti del carico sopra questa curva siamo in modalità di conduzione continua quindi per potenze abbastanza alte assorbite dal carico per potenza assorbita dal carico inferiore a questo livello quindi correnti inferiore a questo livello siamo in modalità di conduzione discontinua cosa avviene? è la stessa cosa che prima c'è una fase durante cui la corrente sale nell'induttanza e poi quando il switch è off ci sono due intervalli distinti uno durante il quale la corrente dell'induttore c'è e scende e poi un altro durante il quale il diodo è interrotto e quindi il carico è libero diciamo carico viene la tensione sul carico viene sostenuta soltanto dalla capacità ok questo chiaramente dà dei vincoli mi mette dei limiti sul valore della capacità che devo mettere in uscita vabbè questi sono due conti per calcolare esattamente il massimo non ci interessa giusto un po' per curiosità un piccolo esercizio avanti allora vediamo modalità di conduzione discontinua ragioniamo su power supply quindi a vo costante questa è la corrente eh facciamo come prima chiamiamo questo qua delta ts e poi e scusate dts e poi il periodo di switch off lo dividiamo in due parti un delta 1 ts e un delta 2 ts quindi andamento è questo e è nel no nell'induttore l'induttore l'induttore questa è la tensione sull'induttore e questa è la tensione sul sì e questa è la corrente dell'induttore nel carico la corrente è praticamente continua perché il carico abbiamo assunto il ser resistivo la tensione è continua costante quindi la corrente in carico è costante a meno di un piccolo ripple che poi valutiamo a primo ordine d'accordo quindi si è alimentato in continuo il carico ho detto che è in carico prima no ah no ok va bene non giusto a volte succede un lapsus allora cosa facciamo qua dobbiamo imporre condizioni periodiche dunque che cosa sono che cos'è questa espressione vedete questa è la quantità di cui sale la corrente nella rampa in salita vedete vd su l è la derivata della corrente per dts che è il tempo d'accordo poi l'altro pezzo che si somma è la variazione della corrente durante intervallo delta 1 ts vedete vd meno vo su l è questa derivata come abbiamo detto vd vd meno vo su l è la derivata per delta 1 ts che è il tempo mi dice questa variazione chiaramente la somma di queste due variazioni deve essere nulla perché diciamo siamo a regime a condizione periodica a questo punto vedete si in pratica si semplifica a destra e a sinistra sia l'induttore sia ts e quindi se divido tutto per vo mi viene qui cosa ho fatto se ho diviso tutto per vo è per delta 1 quindi viene vo su vd uguale a 1 più d su delta 1 chiaramente nell'ipotesi in cui non ci siano perdite negli induttori e nell'interruttore questo equivale anche al rapporto inverso tra le correnti perché le potenze in ingresso e in uscita sono uguali va bene quindi niente di nuovo si potete fare una verifica giusto per per abitudine se delta 1 è uguale a 1 meno d cioè nel caso limite di conduzione continua si ricava 1 diviso 1 meno d che è l'espressione che abbiamo ricavato precedentemente ovviamente le due cose devono tornare nel punto di contatto ok una volta che abbiamo questa quantità per ricavare al solito duty cycle in funzione della tensione di uscita dobbiamo togliere di mezzo delta 1 quindi ricavare delta 1 per l'altra via e sostituirlo e come facciamo questo valutiamo la corrente media nell'induttore di nuovo facciamo come abbiamo fatto prima cosa dobbiamo fare dobbiamo calcolare per ottenere la corrente media in pratica dobbiamo fare l'area di questo triangolo e dividere per il periodo d'accordo allora l'area del triangolo quant'è? è l'altezza che è questo termine che abbiamo calcolato anche quindi questo termine qui è delta ts per vd fratto l che è lo stesso che abbiamo chiaramente indicato qua la base è d più delta 1 per ts e diviso 2 se tutta quella quantità la dividiamo per ts otteniamo la corrente media nel nell'induttore questa corrente media nell'induttore qui è chiamata id perché è anche la corrente media che eroga il generatore di ingresso il generatore di ingresso è in serie all'induttore quindi ha attraversato la stessa corrente ok cerco di aggiustare il passo al fatto che non sto scrivendo stavolta vedo che quello che vuoi scrivere perché sennò uno rischia andare un po' più rapido allora la tensione d'uscita la corrente d'uscita invece che è la quantità che ci serve adesso come è legata all'id è chiaramente il ragionamento che abbiamo fatto prima cioè forse mi conviene far vedere un attimo il disegno sì in pratica è una frazione della corrente d' perché durante il periodo d per t's non passa questa corrente la corrente dell'induttore non passa nel carico quindi moltiplichiamo id per questo partitore in pratica di tempo è delta 1 il periodo durante cui l'induttore è collegato al carico diviso d più delta 1 questo ci consente di semplificare un po' l'espressione se andiamo a fare questa sostituzione vedete d più delta 1 e d più delta 1 si semplificano mi rimane un delta 1 fuori e tutto il resto mi viene di nuovo esposto vedete questo e questo va via quindi t's compare una volta sola d mi viene delta 1 mi viene da qui e d mi viene da sopra d'accordo quindi questa è l'espressione della corrente media a questo punto abbiamo questo qua abbiamo questo possiamo mettere le due cose insieme quindi ripeto in pratica le due condizioni che abbiamo ricavato sono una sulla periodicità della variazione della corrente un altro sulla valore della corrente media nel carico ecco questo è un pochino di alchimia in pratica qui che cosa abbiamo fatto vi faccio vedere il passaggio di lato dunque qui ricaviamo in pratica devo togliere di mezzo delta 1 ricavo delta 1 da qui e lo sostituisco qui dentro e così ottengo questa espressione se ricavo delta 1 da qui mi viene vedete faccio il passaggio sopra qua vo su vd meno 1 anzi facciamo vo meno vd su vd uguale a d su delta 1 e quindi delta 1 viene uguale a d per vd diviso vo meno vd quindi vedete è questo termine qua questo è soltanto una normalizzazione in pratica questa IOB max l'avevo definita precedentemente non ve l'avevo fatto il calcolo in dettaglio era il valore massimo di IOB cioè il valore che raggiungeva IOB qui ed era uguale a questa quantità quindi ho preso e l'ho risostituita di là diciamo ora questo è un aspetto francamente non così importante perché è soltanto un fattore di normalizzazione d'accordo quindi ripeto potete prendere come una definizione questa IOB max 4 27esimi per questa cosa qua 4 no 2 27esimi vo per ts su l mi serve per normalizzare l'espressione ma non mi cambia molto allora una volta che abbiamo questo abbiamo quello che ci serve per fare il grafico in modalità discontinua perché vedete possiamo rappresentare per esempio D in funzione di IO usando VO come parametro che è la cosa che abbiamo fatto l'altra volta quindi D lo esplicito viene fuori lo porto fuori chiaramente in forma radice quadrata di questa roba la cosa che mi prende in più è farvi vedere le dipendenze funzionali la dipendenza funzionale principale dalla corrente è quella che abbiamo trovato nel BAC viene proporzionale alla radice della corrente e poi nel fattore di proporzionalità entra la tensione d'uscita quindi è abbastanza facile da rappresentare in pratica in modalità continua D dipende soltanto dal rapporto VO su VD in modalità discontinua dipende invece dalla radice quadrata è proporzionale alla radice quadrata della corrente quindi posso andare a disegnarlo ecco questa è la curva in cui ho io in funzione di D questa curva cubica che avevamo trovato prima vedete è disegnata al contrario questa qua questa io in funzione di D per correnti più grande siamo in modalità continua e quindi D è uguale a 1 meno VD su VO quindi indipendente dalla corrente dipende soltanto dalla VO rispetto a VD quindi abbiamo le solite curve e rette orizzontali fino a qui e poi per valori inferiori di corrente questo è il limite questo è il limite di conduzione limite di conduzione continua per valori più piccoli avremo un andamento di tipo proporzionale alla radice di IO quindi è facile disegnarlo perché si deve raccordare in questo punto e poi va giù come la radice lì l'andamento è in questo modo quindi vedete qui è solo una convenienza di normalizzazione in questo punto io sui OB Max vale 1 per definizione di OB Max e questa cosa qui vale 1 terzo perché questa quantità ha il massimo quando D vale 1 terzo quindi vedete che cosa succede in pratica quando assorbe poca corrente e carico bisogna rapidamente a parità di VO buttare giù il duty cycle non ridurre molto il duty cycle a parità di VO per mantenere la tensione di uscita costante in condizioni molto basse questa è una cosa importante specialmente quando ho un dispositivo che va in stand by facilmente per esempio un dispositivo portatile che non c'è il punto va in stand by e quindi consuma assorbe una corrente molto più bassa di quella che assorbe precedentemente ma ha bisogno della stessa tensione di alimentazione come spesso succede a questo punto istantaneamente il sistema di controllo deve abbattere il duty cycle e portarsi da un duty cycle che aveva qua per esempio magari abbastanza vicino a 1 a un duty cycle da queste parti molto vicino a 0 tenete presente la corrente scende di ordine in grandezza in stand by o scende facilmente di un fattore 1000 quindi si arriva a duty cycle molto vicino a 0 ok e questo è lo stesso grafico allora chiaramente questa analisi è un pochino più dettagliata di quella che avete già visto ma è abbastanza ideale ancora poi se uno vuole fare un'analisi precisa e di solito con una progettazione di questi sistemi poi c'è tutta una fase di analisi delle perdite perché come dire il fattore di distinzione e di di confronto tra diverse soluzioni di convertitori di cdc sta poi nel rendimento quindi vince chi riesce ad avere minore dissipazione di potenza rispetto alla potenza che si eroga quello diventa un fattore in cui si vendono questi oggetti quindi c'è tutta un'analisi delle perdite che ora in questa fase noi non vediamo e da che cosa dipende dipende essenzialmente dalle perdite in quei quattro dispositivi che abbiamo considerato ideali il diodo l'interruttore tipicamente un mosfet in questi casi l'induttore e il condensatore quelli sono tutte fonti probabili di perdita che non abbiamo considerato in aggiunta a questi elementi c'è da considerare invece quella che non è veramente perdita ma che è la potenza necessaria per operare il switch per accendere e spegnere il mosfet e la parte di logica cioè il controllo tutti questi elementi contribuiscono insieme a vedere quant'è l'efficienza di conversione cioè il rapporto tra la potenza che viene erogata in uscita e la potenza che viene assorbita dal sistema diciamo ragionevolmente soluzioni che si trovano in commercio adesso raggiungono un 80-90% di efficiente di conversione e quello si vuole sotto 80-90% inizia a essere molto poco competitiva dunque l'altro aspetto importante è il ripple perché il ripple dal punto di vista della progettazione mi limita e mi mette dei vincoli alla capacità che devo mettere in uscita quindi tipicamente quello è un altro costo un ingombro significativo del sistema il ragionamento che si fa è lo stesso la capacità dobbiamo vedere quant'è la carica che va sulla capacità e al solito abbiamo da valutare la carica dunque vediamo un po' disegniamo un attimo il sistema abbiamo questa situazione questo è il diodo questo è l'interruttore e questo è il carico qui l'analisi la facciamo un pochino diversa cosa succede quando l'interruttore è aperto anzi quando l'interruttore è chiuso guardate cosa succede al carico l'induttore si carica contemporaneamente il diodo è aperto e la resistenza e scusate la capacità si scarica sulla resistenza d'accordo sulla resistenza passa una corrente IO che è VO su R e quindi si può valutare il ripple guardando quanta carica perde la capacità durante il tempo nel quale il diodo è ON poi quando il diodo è OFF la capacità si riempie di nuovo e quindi abbiamo l'andamento oscillatorio quindi questa è la carica persa della capacità durante l'intervallo di tempo in cui l'interruttore è ON quindi come facciamo delta Q è I con O per DTS che è il T ON questo è il T ON ok allora a questo punto IO sarà VO su R e viene fuori una cosa in cui sparisce l'induttore mentre nel ripple abbiamo anche l'induttore nel ripple del buck nel ripple del boost l'induttore sparisce se scriviamo il ripple relativo delta VO su VO viene D per TS su TAU e questo TAU è il TAU del filtro RC di nuovo abbiamo una una relazione in qualche modo simile all'altro vedete una cosa dovreste notare che la dipendenza dalla frequenza di switching è diversa che nel caso precedente che vuol dire che diciamo tipicamente abbiamo un ripple un pochino più alto nel convertitore boost oppure per ridurre il ripple abbiamo bisogno di una capacità nettamente più grande e questo un po' si capisce perché è la capacità che mantiene la tensione costante la capacità fa molto più lavoro nel boost perché è quella che mantiene costante la tensione sul carico durante una buona parte del periodo ok quindi che sia quando il diodo è chiuso sia quando il diodo è aperto scusate sia quando l'interruttore è chiuso sia quando l'interruttore è aperto ma il diodo è off quindi comunque anche questo rispetto a quello che vi dicevo prima fa notare che diciamo conviene aumentare la frequenza di switching è molto importante se aumenta la frequenza di switching posso ottenere capacità bassa altrimenti bisogna andare significativamente in alto con la capacità da mettere in uscita ok quindi facciamo un attimo un momento locale abbiamo visto il buck il boost abbiamo visto situazione di conduzione continua conduzione discontinua di nuovo avviene che la conduzione discontinua sia quando la corrente scende sotto un certo livello il livello è funzione della tensione di uscita che vogliamo rispetto alla tensione ingresso cioè del duty cycle ma questo è andamento con un'espressione cubica ma insomma poco importante sotto questo livello andiamo in modalità di conduzione discontinua e il duty cycle in quel caso è funzione sia della corrente d'uscita sia della tensione che vogliamo uscita quindi il rapporto tra tensione uscita e tensione d'ingresso ripeto anche in questo caso dal punto di vista dell'operato del controllore non c'è da conoscere esattamente l'espressione perché ci sarà un confronto con il livello di riferimento quindi si aggiusta il sistema in modo più o meno automatico una volta chiuso in reazione sul valore della tensione desiderata in seconda battuta c'è il ripple il ripple è una quantità che è inversamente proporzionale alla frequenza di switching e alla capacità che inseriamo in uscita quindi tipicamente se abbiamo un vincolo di progetto sul ripple questo vincolo lo rispettiamo alzando o l'una o l'altra insomma il prodotto delle due ok questi sono due i tipi più comuni di convertitori di cdc c'è spesso l'esigenza di invertire il segno della tensione e ci sono diverse soluzioni anche per invertire ecco ripeto non sono gli unici tipi di convertitori i back e boost che fanno con induttore sono quelli più comuni poi sono tantissime varianti famiglie che hanno vantaggio e svantaggio a seconda dei casi di fatto insomma vediamo queste perché sono di gran lunga le più comuni vediamo invece per invertire il segno dov'è che quando è che si ha questa esigenza guardate che in tantissimi sistemi alimentati a batteria voi pensate che avete una tensione di alimentazione e poi c'è bisogno di ottenere tutta una serie di tensioni ok quindi avete bisogno di ottenere tensioni più basse tensioni più alte ma anche in un portatile spesso avete bisogno di 12 volt o 24 volt per il display che la batteria non fornisce in un in un telefono avete bisogno di più 9 volt e meno 9 volt per la flash immaginate una batteria un telefono alimentato alla tensione di pochi volt e però avete bisogno internamente di generare almeno più 9 e meno 9 per scrivere e cancellare le flash dove c'è memorizzata tutta l'informazione permanente internamente quindi c'è il chip di gestione della potenza che deve generare tutte e due quelle tensioni ovviamente per esempio la tensione negativa la genera con un back boost o un architettura analoga ok allora come funziona il back boost è semplice in pratica perché assomiglia ai due precedenti vedete in pratica che cosa abbiamo fatto abbiamo girato il diodo e cambiato di posto dell'induttanza niente di più il meccanismo assomiglia molto a quello del boost in pratica che cosa succede durante la fase in cui l'interruttore è chiuso l'induttanza si carica perché all'induttanza è attaccata la tensione di ingresso l'induttanza si carica poi a un certo punto aprite l'interruttore l'induttanza continua a volere corrente e quindi si ai capi dell'induttanza appare una tensione negativa e quella tensione negativa viene applicata al carico quindi al carico trovate una tensione negativa vedete la tvl è positivo durante la fase in cui l'induttanza si carica perché la corrente cresce quando staccate l'interruttore la corrente dell'induttanza tende a scendere quindi il segno della tensione sull'induttanza cambia il diodo conduce e quella tensione viene applicata all'uscita va bene e quindi poi l'analisi la facciamo esattamente come abbiamo fatto finora perché dobbiamo immaginare che al regime la quantità di cui aumenta la corrente sia uguale alla quantità di cui la corrente cala quando l'interruttore è aperto quindi l'analisi è esattamente uguale in tutti questi casi noi ragioniamo sempre allo stesso modo di nuovo idealmente questi componenti non dissipano l'induttore è una capacità un diodo e un e un switch un mosfet in generale allora quindi di nuovo questo è l'andamento periodico il primo addendo è la quantità di cui sale la corrente quando l'interruttore è chiuso quel dts è il t on lo riconoscete è t on vd su l è la derivata di vd è la tensione applicata a l quindi vd su l è la derivata della corrente durante la fase discendente invece abbiamo che il tempo è il complemento 1-d per ts e la tensione applicata all'induttore è la tensione d'uscita trascuriamo al solito la caduta sul diodo quindi è v o su l quindi questo punto ts ts si semplifica l ed l si semplifica e ottengo il rapporto questo se ne va non questo l'altro questo si e ottengo il rapporto v o su vd in funzione di d viene facile viene praticamente a a a v o cioè viene vd per d uguale a v o per 1-d quindi facendo v o su vd viene d diviso 1-d va bene di nuovo in assenza di perdite questo è uguale al rapporto delle correnti d'accordo quindi per dire questa equazione qui chiaramente sta valendo soltanto in assenza completa di perdite io e la corrente che passa in carico passa con questo segno ovviamente perché la tensione sul carico è negativa d'accordo quindi vedete più o meno la stessa forma credo che anche questa l'abbiate già vista vediamo di nuovo un un livello di dettaglio in più che è che cosa succede avete già capito quando la corrente d'uscita cala allora quando la corrente questa è la corrente d'uscita no scusate questa è la corrente dell'induttore va bene se lo vediamo dal punto di vista del sistema cosa succede quando cala la corrente dell'induttore scusate quando cala la corrente d'uscita cala anche la corrente dell'induttore fino al punto in cui si va a modalità di conduzione discontinua questa è la corrente dell'induttore questa è la parte in cui sale questa è la parte in cui scende quando scendendo raggiunge 0 però abbiamo la discontinuità. La corrente di picco è questa qui, no? È del D per TS, cioè il T on, diviso la derivata della corrente che è Vd su L. Questa qui è Vd su L. Questa è la IL di picco. Quando la corrente media è uguale alla metà della corrente di picco, siamo al limite di conduzione continua, perché vuol dire che il vertice inferiore tocca lo zero. Va bene? Quindi abbiamo ricavato la condizione e se la rappresentiamo in funzione della corrente di uscita, dobbiamo andare a moltiplicare per ILB. perché in realtà la corrente di uscita corrisponde alla media della LB solo nel tempo T off. Quindi qua moltiplichiamo il nuovo per T off e qui facciamo tutta la sostituzione. Qui che cosa abbiamo fatto? Qui ho anche aggiunto il fatto che Vd su Vd, abbiamo scritto, era uguale a, non me lo ricordo, Vd su Vd è uguale a D per 1 meno D, no? Quindi Vd su Vd è uguale a 1 meno D su D. Quindi sostituisco... Non si legge bene. Vabbè. Non riesco a trovare la gomma, li faccio così. Vd su V uguale a 1 meno D. Quindi quando vado a sostituire questo, mi viene 1 meno D al quadrato, il D si semplifica con questo D, viene 1 meno D per questo e 1 meno D per questo, quindi qui viene il quadrato e poi c'è TSVO fratto DL. Quindi vedete, di nuovo, c'è una dipendenza quadrata rispetto... Non di nuovo, c'è una dipendenza quadrata rispetto a D. E posso andare a disegnare tutte e due le curve. Quindi questa è ILB, questa è ILB e questa è IO. ILB è scritta così perché se sostituisco a Vd l'espressione di prima, mi viene VO per 1 meno D. Quindi qui la faccio a VO costante, va bene? E quindi rispetto a VO costante ho un andamento 1 meno D, che è questo. E quando rappresento IOB mi viene 1 meno D al quadrato, quindi una parabola. Questa qua. Quindi di nuovo io so che sopra questa curva, se la faccio in IO, sopra questa curva sono in modalità continue, Sotto questa curva sono in modalità discontinua. Quindi la curva è questa qua. Ce la faccio per io. E quindi farò il disegno di nuovo come prima. Sopra so qual è la dipendenza tra D e la tensione, cioè D è indipendente dalla corrente, sotto invece vedrete che dipenderà dalla corrente. Allora, ci siamo? Dobbiamo... Prego. Nella prima formula, la D quando lo posso sostituire, vuol D... Ah no, no, non c'è, non c'è. No, no. Ho sbagliato il proprio piano. Non c'è. Sì, infatti viene semplicemente 1 meno D, infatti, è una curva. Ok? Allora, a questo punto noi che cosa dovremmo fare? dobbiamo trovare, come al solito, come dipende D da dalla corrente Yoh. E ancora non lo sappiamo come facciamo? Di nuovo come prima, cioè calcoliamo il... imponiamo di nuovo la periodicità e poi calcoliamo il valore della corrente d'uscita. E facciamo questa è l'ultima serie con tempo lunga. Allora, siamo in modalità di conduzione discontinua. questa è la corrente nell'induttore. Un po' di pazienza e facciamo questo conto. Allora, in salita questa pendenza è di nuovo Vd su L, quindi qui abbiamo D per Ts diviso per Vd su L. Questa è la quantità di cui si sale. Qui in discesa abbiamo Vo su L di pendenza perché all'induttore è applicata la tensione Vo e quindi che ovviamente Vo è negativa quindi è una pendenza negativa per un tempo che è come abbiamo fatto finora di valore Δ1 per Ts. Imponendo quest'uguaglianza di nuovo semplifichiamo T su S su L di qua e di là e troviamo la relazione tra D Δ1 e Vo su Vd. Chiaramente questa vedete bene nel limite di conduzione continua quel Δ1 è uguale a 1-D e quindi ricaviamo l'espressione che già conoscevamo ok? Ancora ora che cosa ci serve? Dobbiamo togliere di mezzo Δ1 perché è funzione degli altri parametri e per usiamo la stessa tecnica che abbiamo già visto innanzitutto calcoliamo la corrente media nell'induttore che è questa IL e lo facciamo calcolando l'area del triangolo quindi questa è l'altezza questa è Vd per D Ts fratto L questa qui è la base del triangolo D più Δ1 per Ts diviso 2 per l'area triangolo questo diviso per Ts mi dà la corrente media nell'induttore va bene? vedete a questo punto posso calcolare la ho qui IO in funzione IL in funzione di e di Δ1 posso calcolare IO in funzione di L e quindi unire le due relazioni cos'è che ho fatto qua? ho sfruttato questa questa condizione vedete in pratica nella induttanza passa vediamo un pochino se mi conviene fare un disegnino qui per non cambiare dunque com'era la situazione avevamo qua l'induttore qua l'interruttore e qui c'era il diodo giusto la capacità e la il carico allora volevo far notare una cosa che se questa è la corrente vediamo di fare un ragionamento sulle correnti medie questa è la corrente media che passa nel generatore di ingresso che abbiamo chiamato ID questa qui è la corrente media che passa nel il carico e queste passano alternativamente dall'induttore però nell'induttore passa la somma delle due passa la corrente ID perché il totale della carica che in un periodo esce dal generatore passa tutto nell'induttore e la corrente che va nel carico per cui io posso scrivere che IL media è uguale a ID più IO a questo punto al posto di D usando questa relazione posso scrivere che ID è uguale a D per IO fratto delta 1 più IO e quindi mi viene IO che moltiplica 1 più D su delta 1 ed è quello che ho scritto va bene si legge cosa ho scritto allora IDL è uguale a D più IO al posto di D usando questa espressione posso scrivere D per IO fratto delta 1 quindi metto in evidenza IO e mi viene IO per 1 più D su delta 1 che è questa roba qua a questo punto vedete ho una relazione tra IO e usando l'espressione di L che avevo trovato prima è D più delta 1 ci sono perché basta che prenda delta 1 da qui da sopra e lo sostituisca qua per trovare la relazione che c'è tra D e IO che è quello che voglio immaginando che VD sia fissato quindi uso VO come parametro e immagino che VD sia fissato quindi ora facendo questo modo quando faccio avanti mi spariscono le note quindi aspetto un attimo se qualcuno vuole prendere ci siete ok avanti quello che dicevo prima in pratica adesso qui che cos'è che ho fatto e ho semplicemente ho semplicemente sfruttato la normalizzazione che cosa ho fatto esplicitato io allora vi faccio un attimo il passaggio qui effettivamente ho fatto un po' qui mettiamo minimo comune multiplo delta 1 e quindi quando estraggo io questo qui e questo si semplificano mi rimane soltanto un D e poi quando delta 1 lo porto di sopra mi viene un altro D e quindi viene un D quadro quindi per fare questo passaggio questa qui è soltanto la normalizzazione non non cioè la cosa importante è che voi tracciate V e D quindi poi il passaggio è facile a fare quindi qua semplifico qui viene un D quando delta 1 lo porto di sopra mi viene un altro D e basta allora se non notate trovo la stessa cosa che ho sempre trovato in tutti questi casi a V costante a un certo punto se esplicito D mi viene una dipendenza proporzionale dalla radice quadrata di I O questa è la cosa che io in pratica devo ricordare c'è un intervallo di corrente sopra una certa corrente D è indipendente da I O sotto la corrente limite D è proporzionale alla radice quadrata di O è il modo in cui io ricordo come sono fatte le curve a V costante in pratica com'è che le tracciamo le curve io faccio così questa è la curva che è proporzionale a 1 meno D quadro quella curva limite che vi ho fatto vedere prima questa qua I O uguale a un certo valore massimo per 1 meno D quadro è questa sopra questo valore D è indipendente questa è I O normalizzato e questa è D sopra questo valore limite D è indipendente da I O ed è soltanto funzione della tensione di uscita che voglio quindi del rapporto VO su ID sotto questo valore ho una dipendenza di radice quadrata quindi da qui lo raccordo la curva e la porto all'origine andando con la radice quadrata di nuovo c'è questo effetto di brusco riduzione di duty cycle quando la corrente scende ok ci siamo? e vabbè questa è la cosa che abbiamo detto per finire abbiamo giusto fin l'analisi questo il voltage ripple di nuovo cosa succede? durante la fase in cui l'interruttore è ON io vi ridisegno il circuito V è negativa faccio V minore di 0 quando l'interruttore è ON il diodo è spento quindi quando l'interruttore è chiuso l'induttore si carica il diodo è spento perché è applicata una tensione inversa e quindi la tensione sulla capacità è tenuta scusate la tensione sul carico è tenuta dalla capacità solo la capacità che tiene la tensione sul carico se vogliamo valutare il ripple dobbiamo vedere quanto si scarica la capacità durante quell'intervallo per poi ricaricarsi quindi di nuovo di quanto si scarica la capacità di una tensione pari a delta Q su C delta Q è la carica che perde che è la corrente delta Q è la corrente IO fratto C IO è VO su R no R è la carica è la resistenza del carico quindi qui abbiamo il tempo è D per TS la corrente VO su R la capacità è C quindi se divido per VO e calcolo il ripple relativo mi viene come prima di per TS su Tau questa è la stessa espressione che abbiamo trovato per il boost ma insomma il circuito vedete è molto molto simile al boost abbiamo soltanto invertito un diodo e spostato riposto all'induttanza poi per il resto è esattamente uguale al boost d'accordo ok allora non riesco a farvi vedere l'altra configurazione volevo sfruttare questi insomma tre minuti per dire una cosa riguardo all'efficienza nelle soluzioni integrate moderne di questi convertitori di CDC specialmente se si vuole ottenere una efficienza molto elevata e una variazione forte del duty cycle non si mette più il diodo diciamo di diversi anni per le potenze non particolarmente elevate ecco diciamo sotto il watt non si mette più il diodo cosa si fa al posto del diodo si usa un altro interruttore controllato invece di affidarsi al fatto che il diodo automaticamente si accende e si spenga si usa un interruttore controllato un altro un altro MOSFET perché si fa questo ci sono diversi motivi il primo motivo è il miglioramento dell'efficienza perché in pratica noi qua abbiamo fatto sempre i conti trascurando la Vγ va bene però la Vγ del diodo è trascurabile per valori di tensione elevata in uscita ma se dobbiamo alimentare un'uscita 3 volte 5 volte trascurare la Vγ è un po' eccessivo e quindi possiamo usare un MOSFET in un MOSFET adeguato possiamo avere in conduzione 1,0203 volte invece che 0,7 quindi la caduta di tensione sull'interruttore quando conduce la VSAT per livelli di corrente non particolarmente elevati può essere più bassa della Vγ del diodo va bene questo è un motivo l'altro motivo è che si riesce a controllare molto meglio il tempo di accensione e di spegnimento perché adesso abbiamo fatto il ragionamento con i switch ideali quando si va a fare la progettazione non è esattamente bisogna tener conto del ritardo del switch ad accendersi e spegnersi e se abbiamo due interruttori asimmetrici cioè uno MOSFET l'altro è un diodo e MOSFET avrà il suo tempo di accensione e spegnimento determinato essenzialmente dalla capacità di gate ok il diodo sarà invece determinato dai suoi tempi interni è difficile matcharli quindi se invece adoperiamo per i due diciamo due MOSFET uno per uno al posto del switch che abbiamo visto qua e uno al posto del diodo possiamo essere sicuri che i tempi di accensione e spegnimento siano uguali perché li progettiamo noi con lo stesso processo e che quindi entrambi limitino in modo analogo la frequenza di switching questo è il motivo per cui si fa c'è una complicazione ovviamente va controllato un switch in più mentre in questo caso il switch è controllato automaticamente quando noi controlliamo i due switch dobbiamo stare attenti a che per esempio non entrino in conduzione contemporaneamente a volte vanno usati in certi casi bisogna usare dei clock multifase in modo che non ci siano mai intervalli di tempo durante i quali tutti e due switch sono chiusi quindi si complica un po' però un vantaggio da un certo punto di vista perché chiaramente quando voi chiudete quando voi chiudete l'interruttore il diodo si deve spegnere in questo caso qua il diodo non si spegne subito no? si deve prima svuotare poi si spegne come abbiamo visto se invece abbiamo un clock non sovrapposto per i due interruttori noi possiamo essere sicuri di spegnere prima uno e poi accendere l'altro di modo che eliminiamo la corrente di perdita dovuta al tempo di recupero inverso del diodo d'accordo? quindi c'è una complicazione in più che si ha nella progettazione ma ci sono tanti gradi di libertà per migliorare il progetto ed è una tecnica che praticamente sotto il watt è ormai standard quindi quasi tutti i convertitori di cdc integrati moderni che vedete a catalogo in realtà il diodo non ce l'hanno hanno un switch quindi è conveniente dal punto di vista didattico spiegare la cosa quando si progetta si usa un switch in più d'accordo ci fermiamo non ce l'hanno non ce l'hanno non ce l'hanno non ce l'hanno non ce l'hanno